E' un posto meraviglioso che è Città Reale, al confine con l'Umbria vicino ad Amatrice. La nostra azienda agrituristica ha praticamente un allevamento di bestiame e poi facciamo ospitalità con delle camere da letto e la ristorazione. Oggi qui a Roma per AgriChef proponiamo la matriciana, anche così d'obbligo per tutto quello che ha subito il nostro territorio essendo vicino ad Amatrice, per cui vorremmo rappresentare la nostra terra con i nostri prodotti e con il nostro piatto. Gli ingredienti della matriciana sono molto semplici e pochi, in realtà è il guanciale e il pecorino che fanno i principi. Le dosi con le quali si fa un buon piatto per circa 5 persone sono intorno ai 125-130 grammi di guanciale, 120-130 grammi di pecorino e circa 400 grammi di pomodori pelati. Il procedimento è praticamente molto semplice, la tradizione vuole la padella in ferro, per cui si cuoce anticipatamente il guanciale tirandolo molto bene facendo tirar fuori tutto quanto il grasso. A quel punto praticamente si mette dentro il pomodoro pelato, si rompe e dopodiché ci si mette la pasta appena appena fatta e è qua.